Fai un discorso storico, dai, dì, dì, dì qualcosa, dì, 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 finalmente siamo stati qui trannati, soprattutto per i ragazzi, per i ragazzi, c'è stata la polizia che ti ha cercato, 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 per calcunizioni mi mandavano... Sì. 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 Oh, che cosa? La mamma che sona di patodio! Prende del tom! Aspetta carino! Vieni! 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 can't win no river no way to win no fly you're all too ugly tonight but we're on another pot of coffee but no precious babies today while the crazes and the freaks girl you won't believe what's on the street I'm a coming on home I'm a human stay cause but all that's ugly yes Sam why even Dracula wouldn't be called one of them I'm standing in the field of things that are unreal it's all to us today it's all to us today tonight I love Corina tell the world I do I love Corina tell the world I do I pray I love Corina I pray the world I pray I pray my God it's all for me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti